buongiorno da obiettivo news oggi 31 gennaio san giovanni bosco oggi la giornata internazionale della zebra di cui sul pianeta esistono tre specie diverse ancora in vita la zebra delle pianure la zebra delle montagne e la cosiddetta zebra di gary quest'ultima è nella lista rossa dell'african wildlife foundation secondo il quale la popolazione negli ultimi 30 anni è diminuita di quasi 60 per cento la giornata internazionale delle zebri è stata lanciata da organizzazioni per la conservazione della specie oggi è anche la giornata nazionale dello stracotto la san giovannese e la giornata internazionale del cocktail brandy alexander cocktail preparato con cognac crema di latte crema di cacao scura tra i nati oggi annoveriamo franz schubert 1797 e giorgio perlasca 1910 tra le scomparsi appunto ad un bosco 1888